E infine tutte le varianti ritmiche del nostro song 12 del libro 1 e le varianti ritmiche sono 31 in totale verranno suonate da me, variante per variante, se vi è mamme, troppo veloce potete rallentare sempre se vi è giusto non dovete nemmeno rallentare il video, in modo tale da poter veramente approcciare i primi passi senza stress pensando, oddio, chissà quanto mio figlio dovrà studiare per arrivare a suonare una semplice melodia e diventare fluido, intonato con un suono gradevole